Non riesco a metabolizzarlo ancora, io sono di Mosca e sono stata tante volte in questo posto e non so, io non ho parole. Ma non solo per la Russia, è un momento triste per tutti. Io conoscevo diverse persone che erano lì. È un giorno di lutto, purtroppo è molto grave e dolorosa questa cosa. Io spero sinceramente che gli occidentali smettono di fornire le armi. Unica speranza è di finire questo massacro, perché l'Occidente è coinvolto tutto. Grazie.